pesce spada ciliegino melanzano e mentuccia forse qualcuno ha già capito andiamo in sicilia a preparare un bel primo piatto di pesce nella scelta del pesce spada fatevi dare il pezzo vicino alla pancia perché perché è presente questa parte che si chiama ventresca che è una parte che contiene del grasso e ci aiuterà a rendere il piatto morbido e gustoso perfetto allora partiamo subito a cucinare questa ricetta prendiamo le melanzane le laviamo e togliamo le due estremità togliamo anche tutte le foglie in eccesso adesso non ci resta che tagliare a fettone spesse tre centimetri due centimetri e mezzo tre centimetri ed infine facciamo dei cubettoni lo spaccate semplicemente in quattro in questo modo adesso scola pasta li mettiamo dentro aggiungiamo anche del sale grosso e un peso sopra li mettiamo a scolare per circa 20 minuti per far perdere l'acqua di vegetazione che potrebbe risultare amara adesso sempre aiutandoci con un tagliere andiamo a tagliare a metà il ciliegino mi raccomando scegliete un ciliegino ben maturo perché appunto deve rilasciare tutto il suo sugo all'interno del nostro piatto e quindi adesso andiamo in padella olio extravergine d'oliva di quello buono lo facciamo scaldare spicchio d'aglio in camicia fiamma dolcissima in maniera tale che l'aglio rilasci al suo interno tutti i profumi e i sapori aggiungiamo adesso il ciliegino che abbiamo precedentemente tagliato un po di acqua coperchio e facciamo cuocere per circa 15 minuti a fiamma dolce ritorniamo sul tagliere e andiamo a togliere la pelle esterna del pesce spada che poi taglieremo prima a stricioline in questo modo ed infine a cubettoni così perfetto tra i scorsi 20 minuti andiamo a sciacquare le melanzane molto bene per togliere sale in eccesso mi raccomando sciacquatele molto molto bene altrimenti risulteranno salate poi prendete un canovaccio li mettete all'interno e li asciugate tamponando quindi facendo fuoriuscire tutta l'acqua che contiene perché perché successivamente una volta asciugate bene andremo in frittura quindi in padella olio di semi io uso quello di arachidi perché il migliore ha un buon punto di fumo e rende fragranti gli alimenti andiamo a friggere a 180 gradi frittura fiamma vivace appena sono ben dorate le scolate molto molto bene ed infine un piatto con carta e facciamo perdere tutto l'olio in eccesso adesso l'acqua bolle mettiamo il sale grosso e giù la pasta io ho scelto le casarecce ma potete usare anche il rigatoni un'altra pasta corta o anche pasta lunga scegliete voi togliamo lo spicchio d'aglio dal sughetto che nel mentre ovviamente stiamo un po scaldando aggiungiamo il pesce spada a cubetti e lo facciamo cuocere per pochissimi minuti deve restare molto molto morbido e adesso non ci resta che buttare giù la pasta e andarla a mantecare a fiamma alta la mantecatore ovviamente ci renderà tutto molto più cremoso e saporito i profumi e i sapori si amalgameranno ho aggiunto della menta spezzettata a mano è il momento di aggiungere anche le melanzane e andiamo a mantecare ancora per qualche minuto per insaporire il tutto spegnete la fiamma prendete un bel piatto e andate a versare la pasta è il momento di andarla ad assaggiare vedete sto impiattando ho fatto una porzione abbastanza abbondante perché avevo parecchia fame andiamo a finire con una fogliolina di menta per dare colore e anche profumi le casarecce pesce spada melanzane ciliegino e mentuccia fresca sono pronti non mi resta che salutarvi seguitemi nei miei canali social ciao a tutti alla prossima da fulvio